Mi sa che io ti vedo. Grazie a te mia pratica. Quanto sei stupida. Ma ho spero di migliorare. In mio canale, tu puoi trovare alcuni video come makeup e nail art, vlogs, reviews, challenges, e so on. Ho spero di piacere. Non dimenticate di subscribe. Grazie mille per aver guardato. In mio prossimo video. Bye!